Sì, sono io. Io non ho ammazzato nessuno. Tre anni fa, quando lavoravo ancora in banca. Ho l'impressione di averla già incontrata. Nome, cognome? Non lo so. Lo chiamavano tutti professore. Mi permetta di fare un brindisi al suo avvenire? No, no, grazie, sono astemio. Che c'è? Per la prima volta non mi sento schiacciato da questi sassi, da queste dimensioni. Vuol dire che è ora di cambiare. Ci sarà tolto qualche soddisfazione, immagino. E altro che... Qui c'è scritto che hai vinto un sacco di soldi. E neanche mi parti a festeggiare. Non ti sta impegnando. Perché a sedurre una donna sono capaci tutti. Ma quando si tratta di lasciarla, è lì che si vede il vero uomo. Voglio sporgere denuncia per molestie sessuali. Adere, che hai fatto? Il peroldico del 96. L'ho offerta di amici. Con cosa? Con la pizza. Bastardo! Ci pensi bene. Quante volte ha desiderato eliminare il problema? Che cosa ha da perdere? Eh no! Non potevo immaginare che lui facesse sul serio. Commissario, è successa una cosa. Guardate. Il mondo è ai nostri piedi. Commissario, non mi domenica. Chi sabia che mi ha Cuba. Io sono ancora qualcosa. Mi Release.